E' stato siglato ieri l'accordo tra Unimè e il Comune di Patti per la digitalizzazione del Libro Rosso, un volume nel quale sono trascritti importanti documenti e carteggia a partire dal 1561, anche se il più antico documento trascritto in copia è un privilegio del Re Ruggero alla città di Messina, datato 5 maggio 1129. A firmare l'accordo il Rettore, Salvatore Cusso Crea, e il Sindaco di Patti, Gianluca Bonsignore, accompagnato dall'assessore alla cultura, Salvatore Sidoti. All'incontro era presente Nunzio Femminò, responsabile dell'Unità Organizzativa Servizi Centralizzati e Informatici del Sistema Bibliotecario dell'Ateneo Messinese. Nasce oggi un momento di collaborazione con l'Università, per la città di Patti è motivo di vanto e motivo di orgoglio. Abbiamo voluto aprire, grazie alla grande disponibilità del magnifico Rettore, un tavolo di confronto. Consegniamo oggi all'Università di Messina, proprio con la finalità di essere digitalizzato il Libro Rosso della nostra città. Sono atti che risalgono al 1500, anche se alcuni atti fanno risalire la nascita della nostra comunità al 1092-1094. C'è una bella lettera anche di Garibaldi che venne scritta in occasione della nottata trascorsa a Patti, prima della battaglia di Milazzo. Avere oggi la possibilità di scannerizzare e digitalizzare questo libro, che è la storia di un comune molto importante del nostro territorio e della lettera di Garibaldi, e la possibilità di poter riprodurlo anche cartaceo e poi renderlo fruibile nel locale della Banca d'Italia a coloro che lo vogliono vedere, rappresenta una grande attenzione del comune di Patti. Contiamo in breve tempo di dare il prodotto finito nei modi più adeguati e soprattutto sono sicuro che questo sia un punto di partenza importante per sviluppare nuove sinergie.